Bene, faremo adesso un brano di nostra composizione, dicono che devo annunciarlo in quanto vogliono attaccare uno streaming, quindi in diretta non so dove, forse in quei social network famosi chiamati Face, qualcosa. Bene, il brano si chiama Multaz ed è incluso nel nostro ultimo disco. Tra l'altro qualcuno dovrebbe avermeli portati, quindi se qualcuno dovrebbe essere interessato abbiamo dei dischi dietro.